Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella! Si può tornare qui con il canale di Grannas E dopo due vittorie consecutive Troviamo il parpo E quadrato Mertens E quadrato Marchisio E quadrato Gervini E quadrato Naigolan E sempre quadrato Maicon C'è sempre quadrato Caceres Quadrato Buffon Ragazzi vi venivano due vittorie consecutive quindi c'è un po' il canone No, stasera no, non mi fai iniziato a un più oltre Purtroppo sono da rettato con i miei Vandoschi Oddio Oh, oh 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 Il mezzo Incredibile La scarpata Aricinare E' la madonna E' la madonna E' la madonna E' la madonna Stato a vedere 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 Sono da Scarge Sare Non è neanche io Nemesis No, io Stato a vedere Stato non so con un po' di farlo a primo per i cittadini e se i piedi con quella che parte squadra chilevandosi mi ha un messaggio rischiava non mi guarda ho preso la palla piena non mi posso che culo un coppio su palla piena e non c'è la piazza scandalo se fatti brutto 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 sta cosa sta chiamata sta chiamata sta chiamata dell'arbitro perchè ne spiri la dell'arbitro dell'arbitro c'era noi sicuro farlo ha un bambini anche se una pippa lo sapevo cioè appena ho tirato ho capito che non entrava perchè vabbè non fa un culo è buono eh no annaccio che ce lo fa non mi ha mai sapere la parola per la parola abbandonata un po' di giro che ho preso quello sbagliato se non lo sbagliato c'è dubbiato il portatore dei paventi davanti l'altro e quindi ho steso quell'altro mi cercava cazzo nata argolla questo posso posso c'è buono c'è buono vittime di laci ca' z ok 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 augurale avore ancora avanti al palais abbiamo avanti al palais mangiare il tutto qualcosa ok ok ma non è popolo, c'era un certo c'è proprio il regalo, non t'ho detto, vuoi mettere un bel io ho detto, non fanno me anche fino a noi, vuoi mettere un scello ma non mi ha regalo, non fanno me, non fanno me ah, trabani, trabani, trabani che gol, che gol che fa un maestro mappolino, no, 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 no buh, bravo, 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 bravo vai, aspetta lì oh, è buono mamma mia, regala la mamma perché stai fatto? lascia, lascia no, tranquillo no, no, perché se non se la lasciavano, nel senso, la stoppava e la buttava fuori, quindi è mio ancora papà mia, ancora papà mia in modo che di chi eeeh mamma mia, si è da lotto questo, però questo è proprio da rosso, che è lì è da rosso, eh? già che non lo danno mai, forse su fifa dovrai scala da incredibile sempre a destra, eh? ma io dirò mai un rigore dove diciamo sempre lo fa non prende il pallone fai stai il mio rigolista ti fai stai una fai stai fantasioso, cosse è proprio un regista cosse, un regista nato ma è stato 4 non 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 fai di male la parola parata di giletti roma di roma un nuovo valore vale vale un'idea se non si parla di esistono un'opera un'opera credibile ancora di scelta se è vero c'è il sangue di capente lui e questo si è fermato E' gol, e' gol, e' gol, e' gol E' gol, e' non e' gol E' gol, e' gol Coraggio Adesso consegniamo a cosa entra in porta Spine, stronti Continuo, Alaba Mamma mia, faccia che la tirata Ma ancora un po' Mamma mia, credibile Pirice, il 95esimo Partita facile facile questa Questa, questa è easy Cioè, il 4-0, tutti si E quindi, come è finito, noi ci vediamo al prossimo episodio Come sempre Ragazzi, è tutto Ciao Davvero, andiamo quella quarta domani, eh Dai, ciao